Bongo là, bongo cia cia cia, parlami del Sud America. Vi aspettiamo il 15 agosto per un omaggio alla grandissima Caterina Valente. Con me ci saranno Vito Di Modugno al Hammond, Pietro Condorelli alla chitarra e Massimo Manzi alla batteria. 15 agosto, ore 21, Palazzo del Trani, la grandissima Caterina Valente. Venite, ci divertiremo. Ciao! Chissà!